L'Aquila Film Festival allarga lo sguardo verso l'universo gay. Lunedì 11 aprile si terrà all'auditorium del Parco del Castello alle 16.30 la cerimonia inaugurale della prima edizione dell'Aquila GPT Film Festival. Il programma prevede 10 film e 6 corti in concorso che saranno presentati durante la settimana fino a sabato 16 aprile, quando saranno proclamati vincitori. I cortometraggi realizzati da giovani artisti sono incentrati sulle tematiche omosessuali e sul recente dibattito istituzionale riguardante le unioni civili. Un argomento di cui si è discusso ampiamente anche in Senato. Per questo l'evento sarà patrocinato dalle senatrici Monica Cirinna che presentò proprio il disegno di legge sulle unioni civili e che sarà presente all'Aquila Nulenghi 11 per l'inaugurazione e da Stefania Pezzopane. Questo film festival che si occupa proprio dell'allargamento dei diritti, della sfera dei diritti alle coppie omosessuali e ai soggetti che fino ad oggi sono stati esclusi dalla partecipazione diretta e dai diritti, ovviamente il Senato è in campo. Oltre che dal Senato il festival sarà patrocinato dal Comune, dall'Associazione Arcigay dell'Aquila e dall'Aquila Young di Marcello Di Giacomo che illustra il significato del festival. Le tematiche sono svariate, si va dall'omofobia ai diritti alle coppie, quindi abbiamo cercato di prendere una forbice abbastanza ampia di quello che saranno poi i temi dei diritti del mondo LGBT.